buongiorno amiche buon sabato 30 dicembre capodanno è alle porte è quasi arrivato e noi continuiamo a provare make up capodanno in vista di un meraviglioso e scintillante capodanno ci accompagnerà in questo make up questa carinissima fascetta skinker con la rennina un po imbronciata un po guffetta e anche un po renna visto dalle cornine sembra una renna e ci facciamo come sempre il cocon a modo il lottatore di sumo amiche ora utilizziamo il dischetto in cottone lavabile in lavatrice e riutilizzabile e applichiamo come primo step skinker il tonic comfort una lozione idratante che avevamo trovato all'interno del calendario dell'avvento di lancome amiche sto utilizzando i prodotti della linea lancome da un po di giorni mi stanno piacendo tantissimo a parte un po di brufolini questo è il multi talent stick contorno occhi effetto fresco anti stanchezza di pupa è molto molto rinfrescante mi piace veramente tanto è super super fresh fresco fresco nel contorno occhi il numero di questo stick è lo 001 dice effetto fresco ed è proprio vero mi rilassa all'istante e oggi proviamo per la prima volta lo sugar lip scrub lo scrub labbra di naioleari evviva il pack è super carino con le ciliegine che identificano il fatto che si tratti di un prodotto della linea labbra amiche è veramente carino mi piace che sia un pesca così bello è praticamente uno dei miei colori preferiti e mi piace tantissimo che il prodotto all'interno lo stick sia proprio rosa pesca come il pack del dello stick di plastica diciamo mi piace fa pandan invece la scatolina di un rosa completamente diverso io l'avrei voluto tutto dello stesso rosa sinceramente però è molto molto confortevole e soprattutto delicatamente profumato questo invece amiche è il siero attivatore di giovinezza advanced genifique di lancome che avevamo trovato all'interno della box holiday di lancome e ora è già l'ora già la volta della crema occhi lancome advanced della genifique occhi un flaconcino molto grande un barattolino da 15 ml questo prodotto è pazzesco ma non vedo grossi miglioramenti nelle mie occhiaie io vado applicarlo anche nel contorno labbra e questa amica è una potenza è la crema lancome renergy hpn 300 peptide cream una crema anti età super super performante un barattolone gigante da 50 ml che ho l'impressione ci durerà un botto di tempo perché io non ne applico tantissima perché la sento un po' corposetta e vado ad applicarla bene 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 sulle mani e il rimasuglio me lo sono spalmata sulle mani amiche non si butta niente tanto di sicuro male non ci fa ne ho spalmato un pochettino sulle maniche le ho un po' secche togliamo anche rimasugli di lip scrub dalle labbra e andiamo ad applicare questa meraviglia questa meraviglia è il lip balm di emily in paris di revolution che si chiama champer non so assolutamente se l'ho detto nel modo corretto ma spero di sì è veramente super profumato molto carino a forma di bottiglia di champagne amiche di spumante mi piaceva l'idea di utilizzarla per un look di capodanno e quindi proprio ben augurante per il brindisi di capodanno e queste amiche è il trattamento giovinezza decolta e collo levigante e rassodante di clarence l'extra firme in collo e decolta e andiamo a massaggiarla nel collo per far penetrare bene 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 il prodottino nel collo amiche mi piace è già diversi mesi che lo utilizzo e mi fa letteralmente volare è buonissima ora andiamo ad applicare anche la crema a mani nelle nostre mani questa è una crema della bioteca italiana della collezione creme mani all'interno c'è la crema alla melagrana alla mandorla ma noi oggi utilizzeremo il tè maccia bio crema a mani con tè maccia bio è veramente carina soprattutto perché è vegan e con il 98% di ingredienti di origine naturale amiche è pazzesca è formulata con ingredienti di origine vegetale e contiene tè maccia biologico lascia le mani settose delicatamente profumate e questa amiche la utilizziamo per la seconda volta è una palettina che ci promette di mascherare benissimo le imperfezioni è di NYX Professional Makeup è una color correcting concealer una palettina di correttori di concealer c'è il giallo che va benissimo per le occhiaie violacee il verde che va benissimo per i brufolini e il viola che è ok per i coloriti spenti e anche il pesca aranciato che va bene per le occhiaie bluastre i due marroncini invece sono per mascherare e correggere le imperfezioni per esempio delle macchiette il giallo invece va benissimo anche per le cupe rose quindi le macchiettine rosastre e rossastre ora andiamo ad applicare anche questi due meravigliosi fondotinta di Wet n Wild Photofocus sono due fondotinte in due colorazioni diverse io faccio sempre un po' di fatica a aprire le confezioni di fondotinta amiche sono una seppia non mi ricordo mai se devo tirare o svitare in questo caso dovevo svitare allora il più chiaro è in colorazione E363C Nude Ivory e quello più scuretto è l'E368C Golden Beige beige dorato amiche quello più scuretto lo applico sulle guance e quello più chiaro nelle parti restanti del viso come mento e contorni per andare a sfumare con dei colori chiari tutto il visore armati di santa pazienza andiamo a sfumare con la nostra amica Beauty Blender quasi quasi uno dei successivi dei prossimi giorni andremo a utilizzare qualche pennello per fondotinta a un certo punto nel tempo mi sono appassionata tantissimo anche all'utilizzo dei pennelli del fondotinta adesso invece è diversi mesi che utilizzo sempre la Beauty Blender tra l'altro ne ho due identiche comprate al supermercato amiche ma che mi sono piaciute veramente tantissimo e quindi tendo ad utilizzare sempre queste due spugnette la lavo e poi diciamo che a cambio ne ho due o tre la lavo e poi ho subito pronta l'altra la metto ad asciugare ed è molto comoda perché è super morbida ho quasi paura a cambiare perché mi sono trovata veramente bene con queste Beauty Blender rosa del supermercato vado a correggere ancora un pochino i due brufolini sulla guancia perché mi nervosisce urta parecchio che si vedono questi due brufoli che tra l'altro sti due ginipini stanno un po' facendo fatica ad andare però non sono gonfi particolarmente ma li vedo la base diciamo che non è delle migliori ma ne ho viste pure di peggio sulla mia faccia amiche quindi mi accontento per oggi e andiamo ad applicare questa cipria amiche che faccio svolazzare e soffio in giro con effetto opacizzante la fix me BB powder cipria fissativa di bella oggi pazzesca andiamo a intottannarci amiche infarinarci più che intottannarci infarinarci come i totani e ora voilà è già la volta del blush questo è l'Unspected Paradise di Kiko Milano il 3D Blush un pack meraviglioso dorato alla profumazione di coco che mi piace e non mi piace però dopo un po' mi abitua amiche non mi dà più fastidio la confezione esterna, la carta diciamo mi piace tantissimo perché è verde con questi fiori meravigliosi e mi fa letteralmente impazzire trovo bellissima la scatola il pack proprio del blushino potrebbero farlo anche un po' più bello a mio avviso ora andiamo ad applicare questo double blush un fard compatto ma molto molto scuro amiche secondo me più che un blush questo qua è una terra e io la utilizzo la parte più scura come appunto una terra e l'applico con la mossa del coniglio che vado a sfumare e ora amiche l'illuminante illuminante che ci piace illuminarci dimmenso questa è sempre della linea Unspecated Paradise Highlighter di Kiko Milano bellissima la scatola bello ma diciamo bello ma moderatamente bello il pack proprio dell'illuminante la scatola invece è molto bella l'applichiamo come sempre nella parte alta degli zigomi nella punta del nasino e nell'arco di cupido amiche e oggi voglio esagerare e lo vado ad applicare anche nella parte inferiore delle labbra per dare una luminosità differente diciamo per capodanno e anche nella parte alta degli occhi sotto alle sopracciglia perché voglio andare a iniziamo già da questo step a illuminare gli occhi e nella parte centrale del naso amiche oggi abbiamo esagerato sono quasi una palla da discoteca ma questo è l'obiettivo brillare e quindi ora andiamo ad applicare dalla palettina Puppa Vamp che è una paletta occhi profumata per la precisione è il numero 003 pazzesca questa palette molto molto belli gli ombretti contenuti al suo interno andiamo a creare un look occhi capodannesco amiche guardate come sono bellini questi ombretti super glitterini sono proprio da festa secondo me mi piacciono veramente tantissimo andiamo ad applicare prima di tutto un pochino di matita questa è la matita professionale occhi di Collistar che mi avevano dato in omaggio con gli acquisti dal sito di Collistar è molto molto carina andiamo ad applicare aiutandoci con una plastichetta in questo caso la confezione di un dotter di pupa vado a sporcare letteralmente l'occhio con la matita nera senza essere precisa semplicemente vado a creare la parte esterna una sorta di codina e vado proprio a sporcare verso l'interno e dalla parte interna dell'occhio vado al centro dell'occhio e nella rima nella rima superiore delle ciglia sono andata a segnare un po' e poi ho sfumato con un pennellino piatto amiche andiamo a tirare bene la matita senza essere troppo precisi andiamo proprio a sporcare l'occhio di matita in questo modo riusciremo a far aderire e ottenere anche un bel look bello intenso prelevo un po' di violetto brillantinato un bellissimo violetto chiaro dalla palettina e vado a coprire un pochino il nero la matita che abbiamo applicato negli occhi amiche prendo anche un po' di nero glitterino e vado a sfumare la parte esterna dell'occhio con il nero glitterato e lo vado ad unire con il violetto questa è la parte che richiede più pazienza mammi che dà veramente molta soddisfazione ora con un pennellino più ampio vado a sfumare un po' di marroncino un po' di doratino uno champagne un po' scuro per creare diciamo un po' di ombreggiature ora uno champagne chiaro 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 un doratino molto chiaro vado a sfumare bene 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 per rendere omogenea l'applicazione degli ombretti ora con un piccolo pennellino pulito vado a prelevare un po' di bianco perlescente e lo vado ad applicare nella parte interna dell'occhio per creare un punto luce molto luminoso amiche questo aiuta proprio lo sguardo ad aprirsi e a creare quell'effetto luminoso di occhio bello bello vispo mi piace tantissimo lo vado a fare quasi in tutti i look occhi e ora applichiamo questa meraviglia è il glitter bomb insta di Lamelle Professional Makeup che avevamo trovato se non sbaglio nell'uovo di pasqua di Douglas non sono sicura sicura però ma mi pare di ricordarmi così lo andiamo ad applicare letteralmente a caso sulla palpebra mobile per andare a creare questo look festivo andiamo proprio a impreziosire l'occhio con questi con queste glitter con queste paiettine colorate che penso siano mischiate semplicemente a della colla perché poi si vanno a fissare a me che una mezza idea di spalmarmelo anche sul naso mi è venuta però mi sono trattenuto oppure sulla parte alta degli zigomi perché ne avevo un rimasuglio nel dito e mi dispiaceva andare a pulirmi il dito e sprecare i glitter però mi sono trattenuta applichiamo anche nella parte inferiore dell'occhio la matita nera per dare intensità allo sguardo in questa diciamo occasione super festosa qual è capodanno andiamo proprio a esagerare volutamente amiche quale scusa migliore e ora proviamo questo magnifico mascara art design di Collistar che dà un volume panoramico e ciglia opera d'arte io l'ho comprato scontato in negozio sinceramente non so se si trova ancora perché è qualche mese che l'ho comprato ma ero curiosa di provarlo anche se ormai mi era rimasto nel fondo del cassetto vado ad applicarne una quantità abbastanza diciamo generosa con 4 spennellate guardate che differenza tra l'occhio truccato e l'occhio non truccato amiche è letteralmente molto molto più grande e diciamo più più vispo però veramente è molto più grande e più vistoso l'occhio che abbiamo truccato l'altro piccolino è proprio piccolino e insignificante al confronto amiche io trucco sempre prima un occhio e poi l'altro occhio totalmente per far vedere la differenza tra l'occhio truccato e l'occhio ancora da truccare secondo me è molto interessante vedere la differenza tra l'occhio totalmente truccato e quello invece che non ha su nulla per capire la potenza della magia del make up come sono in realtà diversi i nostri occhi con il trucco e senza il trucco amiche secondo me è pazzesco fa letteralmente una magia esagerata andiamo a truccare ovviamente anche il secondo occhio stiamo già applicando la matita nel secondo occhio la matita nera sporcando a caso amiche e ora sfumiamo bene 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 con un pennellino io sono super 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 curiosa di sapere se questo look da capodanno vi piacerà o se sarà un flopone gigantesco avrò forse esagerato con questi glitter amiche io sinceramente penso che sia uno dei look che mi sono meglio riusciti io sono veramente soddisfatta già solo vedendo il primo occhio perché mi dà proprio voglia di festeggiare voglia di sorridere di ballare di agitare diciamo le mani all'alto di gioire insomma col bicchiere in mano per un brindisi perché mi sa super da festa molto 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 gioioso io da sola mi dico sì mi piace però non tutti abbiamo gli stessi gusti magari a voi amiche non piacerà per nulla sono super curiosa sentitevi libere di dirmi se vi piace o se non vi piace io oggi ho optato per un look veramente extra ecco no ciglia finte io non sono per le ciglia finte perché ho paura che me ne caschi una nel magari bel mezzo della festa e fare una figuretta secondo me le ciglia finte quelle che si attaccano a calamita sulle nostre ci rovinano le nostre ciglia quelle che si incollano se si scollano ci facciamo una brutta figura quindi amiche io non sono team ciglia finte io sono team chilate di mascara mettetemi un badile di mascara nelle ciglia e poi strucchiamo in modo delicato e riabbiamo le nostre ciglia senza nessun problema quindi io sono team mascara tutta la vita però ci le ho finte no uno perché ne ho prese qualcuna non sono ovviamente bravissima ad applicarle ma ho proprio paura che vadano a dare qualche effetto non voluto tipo che mi casca una ciglia nel bicchiere durante il brindisi amiche sarebbe una roba veramente imbarazzante non sarei in grado di sopportare questa cosa quindi amiche che dire questo è il look che abbiamo ottenuto con il mascara art design architect di colistar con la palette vamp numero 003 palette occhi profumata di pupa e soprattutto col glitter bump di lamelle che è veramente super super glitterato e ora per tenerci un po profilo basso e soft andiamo ad applicare l'extra shine di essence volume lip gloss che va a creare un effetto volume sulle labbra ma è cristallino e trasparente quindi occhi luminosi glitterati ma sulle labbra un effetto molto molto angelico e trasparente fatemi sapere cosa ne pensate di questo look se vi piace se state provando un po di look per il capodanno e se avete qualche consiglio mandatemelo che lo proviamo come colorazioni e tecniche li proveremo nei prossimi make up dei prossimi giorni vi mando come sempre un bacio grande 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 e ora corro a fare gli acquisti per il cenone di capodanno un bacio amiche buona giornata grazie a tutti